buongiorno favola del giorno la pulce e l'atleta esopo un giorno una pulce con un balzo andò a finire sul dito del piede di un atleta ammalato e saltando gli diede un morso l'atleta irritato si preparò a schiacciare la pulce con le unghie ma quella preso lo slancio e spiccato uno dei sui soliti salti si allontanò ed evitò così di morire allora l'atleta prese a lamentarsi eracle disse se mi offri questo sostegno contro una pulce come mi aiuterai contro i miei avversari la favola insegna che anche noi non dobbiamo invocare subito gli dèi nelle situazioni meno importanti e prive di rischi ma per le necessità più pressanti arrivederci